Bentornati qui con noi. Cyberpatico è qui oggi. Vediamo di trovare cyberpsicose, suicidio e... E poi di granata. Ah, di tona di granata, giusto, di tona di granata, che pensavo proprio con fuori. E poi sono stati. E l'unico posto per trovarti è questo tipo, questo postaccio qui, Pacifica. E anche al porto, se possibile, al mare. Allora, speriamo di usare quella bella giocstra montagne russe. Ma oggi noi ci facciamo qua un bel botto. Mi mazzate a questi di Pacifica Budweiss. Se non sei ancora iscritto al mio canale, se vuoi più ora. Lascia un bel like. Un bel mi piace. Un bel mi piace. Con il mio amico. Un bel mi piace. Però non abbiamo trovato nulla. Spero che per tenere lì per quasi qualche minuto potrebbero trovare, potrebbero arrivare e spero di arrivare, potrebbero essere quasi così, non lo saprò. Ehm, forse suicidio, forse, forse con suicidio finirebbero, questo è un bel video. E' una buona parte che dovrebbe tagliare per farla a sproposione. Ho già uscito quei due che stanno ormai e potrebbero essere controllato qua. Quindi, per un'altra parte, quando parla a sproposione così, non lo saprò. Sì, non lo saprò, ecco bravo! Un'altra parte, non lo saprò, non lo saprò, non lo saprò. E ecco, Cyber Psicoli? Si, Cyber Psicoli anche la tua volta su questo tipo. Autore dei sorrisi Questi due non hanno mai niente, non sono letrani quindi, non sono solo mitrozzi e altri, per il resto è meglio dare la caccia ai letrani. Guarda, non mi basta il tempo, accupiamo il tuo lavoro, mi sa che qui è una donna schiatta, non è niente. Ma 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 c'è da me questa bella, quel ballo di Avis Presley, si quel ballo di Avis Presley. E il mirino sta là, punta la testa invece spara all'altra, manca il versabile, nonostante il mirino sta a polo per colpa a fronte. Ah, punta proprio la fronte, ma il colpo per l'arte e manca il versabile. Oh scusa per la lunga, trovo il rischio. Oh scusa per il finale. non so che questo rischio non so che questo rischio ma che dure è questo? non so che questo rischio 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 che questo rischio